La Fortitudo ha operato un innesto importante e da importante lo vuole rendere determinante. Per riuscirci cosa deve succedere? Cosa deve succedere? Dobbiamo lavorare. Tanto il segreto è sempre quello, è il lavoro. In palestra, tutti insieme, con una metafora rimando tutti nella stessa direzione senza mai perdersi d'animo anche nei momenti di fiorità. Ci tengo, ci tengo a far bene e penso che l'accoglienza dei tifosi me la dovrò guadagnare in campo giocando alla mia maniera, quindi una pallacanestro sporca, fatta di cose che non vanno anche nelle statistiche ma che alla fine della partita servono alla squadra. Io sono arrivato da tre giorni e posso dire già in tre giorni che tutti stanno lavorando in quella maniera lì per aumentare il gioco di squadra e giocare tutti insieme e a un livello di concentrazione sicuramente alto per cui poi la domenica riuscirai a non avere queste pause. Qual è stata la cosa che ha pesato di più nella tua decisione di scegliere la Fortitudo? È comunque il fatto di arrivare in una società importante, ambiziosa e con la possibilità di giocare per vincere anche quest'anno, per provare a vincere.